Fabrizio Bentivoglio al Castiglioni Film Festival, era mai stato qui in questa città? No, mi piace molto. Lei è un grande attore, grandi film. Per il futuro, di che cosa ci può anticipare, senza spoilerare? Vi posso anticipare un ritorno di Casanova con la regia di Gabriele Selvatore, che uscirà l'anno prossimo. Che è già tanto, insomma, l'anticipo. Già non è poco, insomma, è un bel anticipo. Le faccio un'ultima battuta perché non le voglio rubare troppo tempo. Che cosa ne pensa di queste iniziative? Il cinema ha avuto due anni abbastanza difficili, c'è stata tanta produzione, ma poche uscite in sala. Adesso è ripartito, servono festival come questi per avvicinare la gente, per far tornare la gente? Sì, servono e come, perché la gente in questi due anni ha perso l'abitudine ad andare in sala, a vedere i film in sala. E quindi, insomma, manifestazioni come queste non possono che invogliare invece a tornarci in sala. E le piattaforme? Eh, le piattaforme sono una novità assoluta. Solo due anni fa, per noi, la parola piattaforma era qualcosa in mezzo al mare, che prelevava il petrolio sottofondo. No, se non è una cosa nuova. Quindi è un'occasione e speriamo di usarla bene. Dobbiamo alzare la qualità di quello che facciamo, dobbiamo fare cose più belle. Credo che solo così riusciremo ad essere presenti. Tornerà Castiglion Fiorentino? Sì, certo, penso di sì. Sì, sì. Grazie.